Fa tappa fino al 23 dicembre nei locali della Biblioteca Civica di Chieri la mostra L'Alba delle Autonomie, statuti comunali piemontesi nelle collezioni della Biblioteca della Regione. L'esposizione, curata e promossa dal Consiglio regionale del Piemonte, in collaborazione con il Comune di Chieri, presenta al pubblico alcuni preziosi volumi di statuti medievali che testimoniano la nascita e lo sviluppo delle identità territoriali e della partecipazione dei cittadini alla vita pubblica. La mostra evoca il rapporto tra l'autonomia politica conquistata dai recenti, allora comuni, XII-XIII secolo, e la vita delle comunità. D'altro canto anche i rapporti con i poteri superiori, per esempio con i duchi di Savoia e sono esposte alcune immagini che riguardano proprio questi statuti. E poi via via la vita che si svolgeva all'interno delle comunità, i rapporti con i consigli comunali, eccetera, e anche gli aspetti economici e commerciali. Grazie.